A Sanremo trovano un'altra novità su questa riviera che di novità è sempre più ricca, una succursale della Fiat attrezzata non solo per l'assistenza automobilistica ma anche per l'assistenza turistica. Pensiamo prima alle quattro ruote, c'è un'officina che consente il ricovero contemporaneo di 50 vetture e comprende tre stazioni automatiche di diagnosi dei guasti. I turisti diciamo così in rodaggio possono avere negli appositi uffici tutte le notizie le indicazioni utili al loro viaggio in Italia, ossia l'assistenza al turismo organizzata su base industriale. La civiltà delle macchine si va diffondendo dappertutto.